La parola d'ordine è cultura come base della rinascita. Parte all'Aquila la seconda edizione di Città come Cultura, un workshop gratuito organizzato dal Maxi in collaborazione con il Comune dell'Aquila. È rivolto ad amministratori e professionisti del settore per approfondire il tema della cultura come motore di sviluppo urbano sostenibile in grado di creare identità, comunità e senso di appartenenza. Ci saranno 100 convegnisti, di cui 25 sono aquilani. Nel 2018 il progetto, ideato e curato dal Maxi, raddoppia con l'organizzazione di due seminari. Dopo l'Aquila, infatti, il secondo appuntamento si svolgerà a Roma il 3, 4 e 5 maggio. Questo progetto contribuisce a rafforzare il legame tra il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo e la città, si legge in una nota degli organizzatori, dove sta nascendo la prima sede di staccata del Maxi. Nella convinzione che formazione e cultura abbiano un ruolo chiave per la rinascita del territorio all'insegna di un modello di sviluppo sostenibile, capace di generare buona occupazione. L'alta formazione di professionisti del settore è una delle chiavi che può consentire alla nostra città di diventare dei poli attrattivi non solo nella regione, ma nell'intero panorama culturale italiano, ha commentato il sindaco Pierluigi Biondi. La due giorni aquilana è il modo migliore con cui il Maxi inizia il percorso di integrazione con il territorio, in vista dell'apertura della sede di staccata. Grazie a tutti.